Previsioni del tempo per domenica 23 maggio su Puglia Basilicata e Molise, situazione generale. L'alta pressione finalmente raggiungerà, seppur insediata da un impulso fresco in arrivo dai Balcani, anche il basso versante tirrenico, favorendo una giornata in prevalenza soleggiata seppur con maggiore variabilità a ridosso dei rilievi, dove saranno presenti acquazzoni sparsi, cieli poco o parzialmente nuvolosi dalla sera, temperature in ulteriore aumento, venti deboli settentrionali, mari fino a mossi, bacini esposti ma in attenuazione. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Il tempo si presenterà migliore rispetto ai giorni scorsi, tuttavia agli spazi di cielo sereno si alterneranno ancora nubi ad evoluzione diurna, che potrebbero originare locali rovesci, specie nelle zone interne della Puglia, fenomeni in rapido esaurimento nel corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento, venti deboli settentrionali, fino a mossi, bacini esposti ma in attenuazione.